Se mai ci fossi riuscito insieme agli altri che hanno parlato, l'ho detto, è curioso che una giornata dei giovani per i giovani è arrivato nonno, però io ascoltavo nonno quando mi parlava e qualcosa l'ho beccata da nonno e mi è tornata utile, sperando che loro, vedendomi come nonno, possano prendere qualcosa che possa avergli dato. Laddove lo utilizzassero sarei contento perché sono convinto che gli tornerebbe utile.